Il Carnevale sposta il Messina. Il calendario alla mano, la squadra giallorossa avrebbe dovuto giocare domenica prossima sul campo della Cireale, ma la festa in maschera più amata dai bambini, come la tradizione, nella cittadina etnea si festeggia con carri e costumi e per questo la questura di Catania ha disposto lo spostamento al mercoledì seguente, nel giorno di San Valentino, il 14 febbraio. Un appuntamento importante per gli innamorati del Messina, poiché la squadra giallorossa in caso di vittoria potrebbe salire a 34 punti, superando in classifica proprio gli avversari di turno, fermi a 33. Il posticipo del match, dovuto alle criticità già esposta, farà sì che le due squadre giochino, conoscendo già i risultati delle altre. Un vantaggio o uno svantaggio per la squadra di Modica? Diverse le correnti di pensiero che si alternano in questi casi, ma resta scontato che per il Messina visto contro la Gelbison, squadra che finora aveva subito soltanto 21 reti e schiantata 5-0 al Franco Scoglio, non sarà certo la pressione del risultato delle altre a fare la differenza. Occhi puntati, soprattutto a Gela Ercolanese, perché se questi ultimi dovessero scivolare in casa di Biancazzurri, una vittoria garantirebbe al Messina di accorciare sulla zona play-off. La settimana che porta alla sfida di Acireale sarà più lunga del previsto e da oggi i ragazzi di Modica dovranno iniziare a prepararsi per un appuntamento importante, anche questo da non fallire per continuare a sognare in grande.